Qua c'è tutto. Ancora però devo mettere la tana. Allora, io utilizzo un tappetino riscaldante da 20 watt. Ha poi della fibra di cocco classica. Costa 5 euro, tipo, ecco, venga, questo. Allora, poi il ramo l'ho comprato dal venditore che mi ha dato il bidone, 14 euro. Allora, poi il terrario è un 60x30x40 di altezza. Poi ha la serratura, la ciotola dell'acqua. Allora, mi raccomando, ora a me dovrebbero arrivare tre tane. Mettetene una nella zona fredda, una nella zona calda e una nella zona intermedia. Allora, ah boh, questo è il mio baby. Ha tre anni, è quasi un subadulto. Allora, io vi consiglio di lavarlo con acqua e amuchina il terrario. Per esempio, come farò oggi, no? Perché ha fatto la cacca in questo punto, regà. Quindi oggi mi tocca pulirlo. Allora, io vi consiglio di darlo da mangiare con delle pinze. Regà, sentite, su Amazon tre euro. Io sono andato dai cinesi, cioè due euro, le ho sterilizzate e va bene. Allora, si cibano di pinchi a spetendere. Te li vado a farci vedere. Eccoli, regà, sono tornati. Eccoli. Sono questi. Praticamente i feti dei topi morti. No, si stanno muovendo. Allora, poi io vi consiglio, sempre quando lo prendete, a parte che vi daranno in dotazione una scatoletta. È piccolina, sì, per tenerlo, io la uso quando faccio le pulizie. E no, regà, poi io vi consiglio di mettere acqua, non di rubinetto, ma acqua potabile, quella che bevamo noi. Qui dentro. Allora, prima di dargli il topo, questo qua è un po' un breve video per spiegarvi com'è. L'olio mi ha spiegato che per dargli il topolino, il pinchi, metterlo per riscaldarlo sul tappetino, riscaldante. Così si riscalda. Mi raccomando, i primi tre giorni non lo toccate. Anche quando fa la muta non li date da mangiare. E niente, regà. Quando morde, lasciatelo mordere e mai tirarlo perché si può lesionare i muscoli, cosa che noi non vogliamo. E niente, regà, è tranquillissimo come animale, solo che scatta, regà. Scattoso. Questo, diciamo, è uno dei miei primi, cioè è il mio primo pitone, vero e proprio. E niente, regà, spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, condividete se volete il video dove li do da mangiare. Cioè, che vi posso dire più? Regà, spero che per la seconda volta questo video vi sia piaciuto. Buone vacanze e mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi e bella!